Dopo l'azione di protesta di traggiori, di posto Arroba e V, e dopo l'intermediazione di Cobiarno, il signore Ansema Pottiles ha riuscito a fare una proposta di bandi mediatori di Cobiarno, che ci ha aiutato la conoscenza di calma e situazione tenso nel momento qui, e nel momento dono il donatore di lavoro un'oportunità per buscare e formare come per cumplire il diritto di traggiori e la ajustazione del salario di traggiori che 2,5% di compagnia istatale deve essere traggiori. Mi servizia anche per la riunione dell'Aquina con la creazione di informazioni di parte di RAT, il nostro vice ministro che ha rappresentato il Paese Arroba e le compagnia istatale dell'Aquina, perché c'è un'opposizione negativo per lo che si tratta di cumplimento del diritto dell'Aquina, che il traggiori non ha ancrato nel contratto colectivo, e il nostro informare la gerenza, il nostro lamento è che la posizione è che sta bene nella messa, però il nostro sindico ha comprensione di bandi di gerenza per lo che sta in posizione di traggiori, però il nostro indico è che non c'è una maniera per negoziare nella messa, ma normalmente potrà negoziare con una gerenza, con un certo mandato, per almeno un margine per poter negoziare in un accordo. In questo caso, qui non ci si tratta di più, perché non ci sono sicuri, non ci sono paura, e non ci si tratta di andare, non ci sono toccione di traggiori, ma ci si tratta di un'opposizione, ma ci si tratta di un'opposizione, ma ci si tratta di un'opposizione di quale traggiori, ma ci si tratta di un'opposizione, ma non ci sono contenti, e non è per tutto un'opposizione di un donatore di lavoro. Però, tenendo in mente la propria, con la memoria della messa, e con il bandi di gerenza per il proprio il tema di, che la opinione della Rato, la feminezza arriva a questi e che, ma ci si tratta di una competenza, perché se l'opposizione non è un'opposizione, ma ci si tratta di un'opposizione di traggiori, ma ci si tratta di un'opposizione immediato. E, con la verità, ma anche non c'è un dolore che è andato, non si apuntano se c'è un risultato, c'è un po' di comparto con noi. Non c'è un incontro con il ministro anteriormente, che mi non conosce, indique con noi lo che ha fatto il risultato di dolore, ma non si un'idea con noi, si c'è un discucionato, e se non c'è un po' di niente, non sa che ogni via, la posta, la situazione di posto, non è una cosa più migliore, però non c'è un po' di differenze plani, non c'è un'aiuto, e la compagnia ha quei generare entrati di tal modo, non può bemmo con le oblicazioni. Non si mencione, com'è un po' di santo, c'è un passato traggiore che abandone il servizio di posto, e l'evozione di introduzione 2.6 che ha fatto la carteira, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, una entrati, di altra bandana posto, ci sono alcune accionate a livello interno per assinare un po' i gasti e per curare un po' per non per cumprir le oblicazione. Noi stanno preparando ora che ci sono pronti, ci sono diversi scenari in una messa, ma anche ci sono posti per seguire i cumpri con un buon servizio nella nostra comunità e per, ugualmente, per seguire i oblicazione che è portato con il suo trabajatore.